Mister, un punto sul campo dell'Albese che in casa non aveva ancora concesso nulla agli avversari una vittoria sfumata alla fine, è più il rammarico per questi tre punti andati oppure la soddisfazione per l'avere comunque... Un po' tutto, dai, abbiamo preparato in una certa maniera bene abbiamo giocato secondo me in una maniera dove potevamo mettere in difficoltà l'Albese sappiamo che è un'ottima squadra dove delle individualità fortissime abbiamo cercato di limitarle queste cose ci siamo riusciti, sapevamo che magari sulle ripartenze potevamo farle male perché portano tanti giocatori sopra palla peccato per il pareggio finale però sono contento per la prestazione dei ragazzi devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una gran partita a tutti siamo vivi e sono contento di questo perché comunque il gruppo è un gran gruppo, stanno facendo bene oggi si è visto, non abbiamo giocato gran calcio, quello sicuramente però abbiamo messo in difficoltà una signora squadra Primo tempo avete chiuso ogni spazio, avete impedito Albese di sviluppare il suo gioco secondo tempo forse meglio, partita più bella, squadre si sono aperte avete dato più... Diciamo che al primo tempo ci siamo chiusi un attimino l'abbiamo impostata sulle ripartenze non ci sono riuscite, secondo tempo magari le due squadre ci sono date un pello di più c'erano più spazi sono riusciti a fare gol peccato per il risultato finale 1-1 però alla fine devo essere sincero risultato giusto grazie a tutti grazie a tutti